Le chiedo anche, anche se è un po' fuori tema, però poco fa, insomma, in queste ore si stanno riaprendo, come le ha detto, i confini anche degli Stati europei. L'Austria ha riaperto i suoi confini, però a quanto pare non ha l'Italia. Un suo commento su questo? Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, ci sono alcuni paesi che ritengono di adottare alcune misure nei confronti di paesi che allo Stato hanno una curva di contagio più elevata. In realtà non vi è motivo che l'Austria, la Grecia o altri paesi adottino misure discriminatorie nei confronti dell'Italia. Non vorrei che l'Italia dovesse pagare il prezzo di una grande trasparenza e di un lavoro fatto con la massima severità, precauzione e trasparenza, se qui compiuto. E' per questo che il Ministro Di Maio, in particolare con tutta la Farnesina, ma anche il Ministro l'ho citato, Franceschini e gli altri, a Mendola, a Speranza stesso, ciascuno per le rispettive competenze, si stanno tanto dando da fare in queste ore per evitare che si possa arrivare a delle decisioni discriminatorie nei confronti del nostro paese che non ritengo affatto accettabili. Ci stiamo lavorando e sono sicuro che convinceremo i nostri amici, in questo caso d'oltre Alpe, che non è assolutamente giustificata un'iniziativa del genere.